200 rete inudili e penitenziario di Sulmona con pene da scontare tra 20 e 30 anni alle prese con un percorso di recupero interiore, scandilo da Bibbia, buddismo e ricerca della felicità. È un progetto mai intrapreso finora nei penitenziari di Abruzzo, quello attuato in quattro tappe alla casa circondaliare di Sulmona, promosso dal centro di salute mentale della Asla Vezzano su Monalacuila in collaborazione con la direzione del carcere Peligno. 200 reclusi su circa 500 complessivi, con trascorsi in organizzazioni criminali come Mafia, Andrancheta e Sacra Corona, in cinque mesi, da ottobre a febbraio scorsi, hanno partecipato a un progetto affidato a psicoterapeuti, educatori ed esperti della materia. Il ciclo di riabilitazione si è articolato in confronti front office, nel teatro del carcere, svoltisi tra grandi misure di sicurezza. Un'autentica scossa emotiva per le persone ristrette nel penitenziario, con crimini gravi alle spalle e cosiddetti reati di sangue, perché sono state condotte lungo un percorso molto difficile, finalizzato a favorire una revisione critica degli errori compiuti, la ricomposizione delle parti di sé e la riconquista di relazioni costruttive. Un processo che ha aperto negli animi degli ospili della casa circondariale squarci di pentimento, analiti al perdono, momenti di forte coinvolgimento e, in alcuni casi, il desiderio di incontrare i familiari delle vittime. Promotore del progetto è stato il dottor Vittorio Sconci, direttore del Dipartimento Salute Mentale della Aslave Zero su Monalacuila, mentre la coordinatrice è stata la psicoterapeuta Stefania Ricciardi. Alla luce del successo dell'esperienza di Sulmona, fa sapere la ASL, il progetto verrà riproposto nel carcere di Avezzano, dove verrà presentato nelle prossime settimane.